Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video recensione. Dopo gli insospettabili Sara Savioli torna in libreria con Il testimone chiave, edito da Feltrinelli. La protagonista, che mi è mancata tanto, è Anna, che a causa di un problema cerebrale ha la capacità di interagire con piante e animali e questa caratteristica, nell'agenzia investigativa per cui lavora, è segreta e utilissima e dà vita a scene divertenti al limite della filosofia estrema. Il caso da risolvere questa volta è travestito da suicidio, smontato subito da Carl, il Carlino della vittima. È proprio Carl il testimone chiave con cui interagisce Anna e di cui si perderanno le tracce. Anna dovrà abarcamenarsi fra l'indagine e i problemi familiari e districarsi non sarà semplice, ma noi donne sappiamo sempre come rimediare. Nei meandri dei mille ostacoli, dei rapporti difficili, delle quotidianità da gestire troviamo sempre il nesso, il filo che ci permette di amare, gestire e donare noi stesse senza remore. Come può essere tutto così identico e sempre così diverso? Ogni cosa passa muovendosi a tante velocità differenti dalla mia. Luca cresce e io mi sfilaccio per stargli dietro, mio padre invecchia, si ammala e forse morirà e io mi strappo come figlia nel tentativo di essere anche con lui. E il resto è un presente fluido, di affetti verso i quali mi tendo, mi lacero così, ferma come mi sento, con il resto che gira porticosamente intorno. Un giallo complicato, con molti risvolti e tante amarezze, è nel mezzo ai rapporti umani e animali. Questi ultimi non sono da sottovalutare. Certo Anna li vede con occhi differenti da noi, ma non ci vuole tanto a capire l'amore incondizionato che ci offrono senza chiedere niente. Grazie gattone, gli ho detto riempiendogli la ciotola della sua papa preferita. Perché mi ringrazi? Voi umani pensate all'affetto come se fosse un regalo inaspettato da parte di alcuni. Qualcosa invece di preteso è dovuto da parte di altri. Ma l'affetto è una cosa complicata nel quale c'entra di più chi lo dà che non chi lo riceve. Io per esempio ti voglio molto bene, anche se tu non sei niente di straordinario. Un romanzo fresco e divertente, ma non per questo privo di denunce, soprattutto contro i pregiudizi. E il giallo, nella sua cornice rappresentata da Anna, Otto e i dialoghi surreali ma coerenti, rimane comunque fermo nei suoi percorsi e nei suoi parametri. E il finale, triste e amaro, entra nel cuore del malessere sociale. Lo so che è presto, ma aspetto nuovamente Anna e le sue avventure. E nel frattempo vi anticipo che a breve ci sarà una diretta insieme all'autrice e altre sorprese di cui non vi racconto. Vi ricordo il testimone chiave di Sara Savioli, edito da Feltrinelli, e vi aspetto alla prossima recensione.